Signori, 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 dopo questa partita, dopo l'ennesima partita, giocata in modo impeccabile da un punto di vista tattico, sapete qual è la domanda che mi pongo? Sapete qual è? Perché cazzo tendiamo sempre ad elogiare, ad elevare alla massima potenza il calcio altrui? Perché tendiamo sempre a vedere l'erba del vicino più verde della nostra, quel verde acceso? Perché quando poi in realtà in Italia, cazzo, e diciamolo pure, siamo maestri della tattica, il calcio ce l'abbiamo nelle vene, questa è la realtà, perché per l'ennesima volta, da un punto di vista tattico, per quanto riguarda gli schemi, abbiamo vinto noi. Il Napoli ha vinto col Barcellona, ditemi quello che vi pare, possesso, palla, ting, tung, tanga, tanga, tinga, tanga, ma la verità è che ai punti il Napoli avrebbe meritato molto di più, paradossalmente questo risultato sta benissimo al Barcellona, che comunque con l'1-1 devi andare là, devi fare comunque un gol, almeno un gol, e non è facile, perché poi sappiamo che quello stadio là è blindato, è blindato. Però, ripeto, ripeto, ogni volta avviene il Barcellono, o chi, quando arrivano queste squadre blasonate, sempre bisogna aver paura di Messi, bisogna ingabbiarlo, bisogna un pochettino vincere la gara a centrocampo, ma non è facile perché hanno Rakitic, hanno Vidal, hanno Buschitz, hanno tutti De Jong, hanno i giocatori più tecnici del mondo. E poi, li lasciamo lì, come si dice, con un provvedo di giugiole, come si dice, con un provvedo di giugiole, così si dice, li lasciamo così, impietriti, perché stanno lì a fa' taca, taca, tica, 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 ma che fa', ma che fa', cioè, oggi cosa ha concesso il Napoli a Barcellona, oltre al gol, cosa gli ha concesso, onesti, onesti, cosa gli ha concesso, una giocata paurosa di Messi, che riesce a liberarsi in mezzo a due e chiude un 1-2 con Vidal, però viene anticipato da Ospino, oltre a quell'altra azione, io non me ne ricordo, io non me ne ricordo, offensive elaborate e incredibili, non me ne ricordo, anzi, ho visto un Napoli che quando ha provato, quando ha cercato di sfruttare le occasioni che gli sono state concesse, l'ho visto molto più pericoloso, peccato che è stato poco cinico, peccato questo, peccato questo, peccato questo, peccato questo, però ripeto, partita giocata benissimo, partita giocata benissimo, partita giocata bene, il Napoli ha giocato la partita che doveva giocare, e non mi venite a dire sempre che le squadre che poi si difendono siano l'anticalcio, perché è sempre calcio, è tattica, sono schemi, nella sofferenza ci sta l'intelligenza del saper soffrire, non tutte le squadre sanno soffrire, questo è un discorso che porta avanti da un po' di tempo, anche la fase difensiva la devi saper far bene, altrimenti ne prendi tre lo stesso, ne prendi quattro lo stesso, questa è la realtà dei fatti, la realtà dei fatti con questo schema Gattuso ha messo in difficoltà, ha messo in difficoltà e tanto il Barcellona, e attenzione perché comunque si parte da una certezza, perché poi da qui passeranno tre settimane se non vado errato per il ritorno e quindi tutto viene messo un po' a soquadro, tutto viene azzerato, ma c'è una realtà che non si può cancellare, ossia che al ritorno mancheranno Vidale e Busquets, mancano due signor centrocampisti al Barcellona, per cui non mi sembra una mancanza da poco, e attenzione, attenzione, e abbiamo dimostrato, ripeto, io ho fatto anche un discorso generale di tattica degli allenatori italiani, perché tutti quanti i mister italiani hanno dimostrato di sapersela giocare, Conte nel girone, ha dimostrato di sapersela giocare con Barcellona, lo ha fatto Allegri alla Juventus, vincendoci, lo ha fatto Gattuso adesso, lo ha fatto Di Francesco con la Roma, quindi anche noi non siamo mali, anche non siamo così male come crediamo, come vogliamo far credere, questo mi sento di dirle, e poi, niente, una menzione speciale a, come fa, come fa, una menzione speciale a, come fa, così, come, non mi ricordo come fa, come fa, come fa, a Ciro Mertens, che giocatore, che giocatore, anche lì ci sono i meriti di Gattuso, perché poi si assume, si prende la responsabilità di metterlo lì, dove un po' Sarri l'ha indottrinato, indottrinato, però attenzione, Sarri l'ha fatto perché mancava Milik, Gattuso lo mette là, nonostante abbia, abbia Milik in panchina, quindi queste sono delle responsabilità che pesano sul gruppone di Gattuso, e sono responsabilità che pagano, e come se pagano? non è un caso che poi l'abbia rotto, quell'altro Busquets, l'abbia rotto, Busquets, con lui ho sempre un conto aperto, che non si chiuderà mai, è la rotta Mertens, è un'entrata bruttissima, una cosa brutta, 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 e, ripeto, mi dispiace, perché poi Mertens era un punto di riferimento, per questo gioco, fatto di ripartenze, era un'arma letale, e dispiace perché magari nei minuti finali avrebbe ancora una volta potuto timbrare il cartellino, ma che gol che ha fatto, pennellata, alla Mertens, alla Ciro, alla Driss, a lui che piace farli solo così, belli da morire, e un'altra menzione la faccio, vabbè, ai due, purtroppo due errori sono stati commessi da una parte del terzino sinistra, là il ragazzino che non mi viene il nome, e l'altro è Mario Rui, peccato, perché lì un'altra disattenzione, lì c'è un errore, peccato, ma va bene, va bene, non stiamo lì sempre a incolpare, anzi stiamo lì a elogiare, io elogio tantissimo Di Lorenzo, chiudo con lui, chiudo parlando di Lorenzo, bravo, Di Lorenzo sta dimostrando una personalità, un'audacia, un'audacia incredibile, un giocatore che mi è piaciuto tantissimo, a testa alta, fisico, corsa, voglia, bel giocatore, bel giocatore, va bene ragazzi, tutto aperto, tutto aperto, si gioca, si gioca, si gioca, si gioca al ritorno ragazzi, si gioca al ritorno, bene, bene così, un grande abbraccio, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentatevi a Cattesi se vi va, iscrivetevi al canale, un grande abbraccio da Nesca.